Come si può vivere bene? Sorgono tutti questi problemi e è come se perdessimo il nostro orientamento. Noi sostanzialmente viviamo nella civiltà della mente, della razionalità, degli schemi, del pensare, della tradizione. Quindi praticamente tutto viene passato al vaglio e al setaccio della mente. Allora noi fin da piccolini veniamo educati, allevati, addestrati da questo. Pensate per esempio al sistema familiare, al sistema scolastico, al sistema religioso. Tutti ci dicono come dobbiamo essere, quello che dobbiamo fare, quando, come e con chi. Quindi anche la sfera alimentare viene in qualche modo esautorata da quello che è l'istinto, da quello che è l'autenticità, da quello che è il sentire del momento e viene traslata nell'area della mente. Quindi noi mentalmente sappiamo quello che dobbiamo mangiare, ma spesso e volentieri non c'è una connessione tra l'aspetto mentale e l'aspetto corporeo. Ecco che allora appunto l'organismo viene nutrito di qualcosa di cui magari spesso e volentieri non sente la necessità. Ed ecco che infatti c'è questo grandissimo aumento di bambini non soltanto obesi ma addirittura anche diabetici, anche ipertesi, già da piccoli. Per cui pensate quando poi saranno adulti quale patologie croniche possono essere a rischio di sviluppo. Ecco perché in qualche modo insomma dobbiamo ritornare alla natura, all'essenza, al sentire del momento. Tutto qua, molto semplice. Probabilmente la nostra cultura ci indirizza probabilmente male, cioè nel senso che ci mette al centro non il discorso del raggiungimento del sé, del benessere reale, ma magari ci costringe a seguire delle abitudini per altri scopi, per altri fini. Per esempio mangiare a orario fisso oppure mangiare certe cose e non altre per un discorso di apparire e non di sostanza. Potrebbe essere questo il problema fondamentale? Quello sicuro. C'è tutta una tendenza molto forte alla omologazione, cioè per esempio pensiamo alla forma fisica. C'è un modello di forma fisica. C'è stato per esempio il periodo delle modelle anoressiche, quindi tutte si dovevano conformare a un certo tipo di conformazione fisica. Ad esempio, cioè in qualche modo c'è sempre questa necessità di dover essere sempre all'altezza di qualcosa che viene imposto dall'esterno. E chi in qualche modo semplicemente si prende la libertà di essere se stesso, quindi di rispondere alle proprie esigenze, di essere semplicemente quel che è, in qualche modo viene additato e viene segregato. Ed ecco perché in questo senso risulta molto difficile, molto faticoso, a volte anche proprio doloroso. Nel tuo libro, lo Zen e l'arte di cucinare, tratti appunto questi argomenti. Cioè, come si collega la filosofia Zen con l'arte di cucinare? La filosofia Zen è l'arte dell'essere presente, l'arte di essere consapevoli, l'arte di essere profondamente silenziosi, cioè di fare silenzio dentro la mente. Quindi di essere profondamente nel momento presente e profondamente all'interno del corpo. Ecco che questa, quanto più si coltiva come dimensione interiore, momento per momento, ecco che si porta all'interno della quotidianità, in ogni attività, in ogni luogo, in ogni momento, in ogni contesto. Io vi ho compreso anche quello della cucina, quello del cucinare, quello del mangiare, del condividere, poi all'interno del consumo, oppure di farlo in solitudine. Però l'importante appunto è questo silenzio della mente, questo tornare all'interno del corpo. Quindi dovremmo liberarci delle sovrastrutture culturali inutili. Cioè non di tutto, ma solo di quelle inutili. Esatto, esatto, proprio così. Il tornare semplicemente all'essenza di se stessi, che è molto più semplice rispetto appunto a quello che si pensa, molto più semplice rispetto a quello che la mente recita e agli ostacoli che cerca di addurre, è molto più semplice. Bene, grazie amici di Onda Libera, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.